Si dice, scuola, white rush, come si dice? E capisco, sono quelli che magari vivono in mezzo a nulla, in mezzo a nulla. Cioè in Italia non sei mai in mezzo a nulla, hai sempre qualcosa vicino. Sempre, sei un'unità ricca, sei un'unità ricca. Invece qua quando sei in mezzo a nulla, non c'è proprio nulla. Quindi che cosa puoi fare in mezzo a nulla? Difficile anche avere stima di se stessi, capito? Buongiorno America Sarà un'altra giornata stratosferica Il sole nel cielo sorride perché Rende omaggio alla razza americana che in me Da qui è l'eternità Buongiorno America Buongiorno America In questa puntata di Insider siamo a Coutlesville Nel South East degli Stati Uniti d'America Una zona terra di nessuno come potete vedere E mi torna in mente una massima di Sam Walton Che dice Esiste un solo capo in un'azienda ed è il consumatore Lui può licenziare tutti, compreso il presidente Gli basta andare a spendere i suoi soldi altrove Ed è la massima sulla quale ha costruito il suo successo Che è quello dove stiamo entrando Il posto più incredibile in Stati Uniti d'America Che meglio rappresenta la cultura Diciamo di bassa qualità Che è Walmart Assolutamente Poi adesso vai lì One stop per tutto La cosa interessante è che lui nasce come dipendente dell'azienda Ben Franklin Diventando diciamo il principale venditore E' interessante vedere come lui ha strutturato il modello di business Cioè in un paese, quello dei Stati Uniti, nelle quali c'erano già delle grandi catene di supermercati Di super discount o cose del genere Lui applica una strategia nuova Cioè dice io mi voglio focalizzare invece che sulle grandi città Sui posti sperduti nel Dio e nel mondo Cioè io voglio mettere i miei punti vendita Sperduti nel Dio e nel mondo E devono essere tutte cose Devono trovare tutto al prezzo minore possibile Perché la sua idea Che per l'epoca nazionale Parliamo degli anni 80 Quindi era ovviamente un'altra epoca Non era l'epoca di Amazon Per capirci L'idea era Io devo avere bassissime immagini Guadagnare poco sul singolo prodotto Perché è quello che poi si trasforma in la massa fa cassa Che è il contrario di tutto ciò che sappiamo nel marketing Poi Amazon ha trasferito tutto questo concetto sul mondo digitale Diciamo che ovviamente se tu sei in grado di attrarre il traffico di un'intera comunità Che è abituata a non avere nulla Perché magari si trova in una zona sperduta dal mondo E riesce ad attrarre verso il tuo cliente per particolare sconti Ovviamente come nel modello Amazon Poi vai a marginare sui servizi accessori Si si perde a vista d'occhio Uno che poi va allo stesso Walmart Perché dopo diverse volte ha imparato a sapere dove stanno le cose Se no ogni volta puoi prenderci solo mezz'ora per capire dove sono le cose E ovviamente è tutto diviso per zone Nulla a che vedere con qualsiasi centro commerciale vi possiate immaginare in Italia E diamoci un obiettivo Andiamo a trovare la cosa più strana che vengono da Walmart Mentre finiamo di raccontare la storia incredibile del suo fondatore L'idea è di non farsi scoprire dalle grandi catene E quindi di aprire questi Walmart all'interno di paesini dell'Arkansas Iniziano sono due punti vendita Poi diventano 28 E alla fine degli anni 80 L'uomo a cui erano state chiuse tutte le porte La vera rivoluzione che ha portato Che ora iniziamo a vedere anche in Italia Poi ripeto con Ma dobbiamo sempre rapportare questa cosa agli anni 80 È l'idea che io posso vendere Comprando grandi quantità Facendo una marginalità bassissima A prezzi in cui nessun rivenditore al dettaglio è in grado di vendere E puntare sulle grandi quantità Questo sistema tutti dicevano Guarda che fallerai Guarda che fallerai In realtà alla fine degli anni 80 Forbes l'ha programmato L'uomo più ricco d'America Cioè un singolo pneumatico 57 dollari Che sono 50 euro Cioè tu praticamente con 200 euro cambi di pneumatico le gomme Quelli di un camion 150 euro Della godia La gioielleria E per esempio ci sono degli anelli di matrimonio Di fidanzamento da 48 dollari Cioè un po' di tutte le tasche Però è ovvio che tu già a 48 dollari puoi chiedere alla tua futura sposa di sposarla Magari puoi anche chiedergli la mano qui a Walmart Per dare un'idea della grandezza di Walmart Pensate che Amazon solo nel 2021 è riuscito a superare le vendite Quindi con la pandemia di Walmart è il fatturato La sua politica è quella lì Everyday low price Ogni giorno deve essere garantito il prezzo più basso al cittadino Il che ha cambiato e rivoluzionato totalmente in una visione che lui aveva avuto il consumo degli americani Non so che se tu porti uno scontrino oppure hai trovato un prezzo minore da qualche altra parte Loro accettano quel prezzo come quello a cui ti vendono il prodotto La domanda è ci saranno 10 mutande a meno di 9 dollari e 48 Quindi low price c'è scritto un po' dappertutto il prezzo più basso Pensate che ogni giorno circa 7500 camion e autisti sono impiegati da Walmart per il trasporto dei prodotti La Coca Cola a chilometro zero La Coca Cola a Georgia a chilometro zero Questo qua 24 Coca Cola 24 can 24 lattini di Coca Cola a 9 dollari Meno di 10 centesimi, 15 centesimi a Coca Cola Dal contadino alla... Queste le compriamo sono le liquirizze alla fragola fondamentali per... I pacchi sono sempre enormi Tutta roba naturale Queste enorme fragole della Georgia Attenzione al cliente possiamo dire L'orientamento al cliente Il fatto di voler aumentare la missione sociale del fondatore Comunque era l'idea di aumentare il potere di acquisto degli americani Cioè fatto salvo che voi guadagnate poco Che l'operario medio lavora... Fa un mazzo tanto Perché non può avere tutto? Quindi era a parità di soldi che tu fai per fare la spesa Porti a casa molte più cose Lasciando stare quello che poi ha causato Perché ovviamente Walmart ha distrutto le economie locali Esatto I paesini, soprattutto quelle di provincia E quali è andata, no? Esatto Ha fatto terra pulita, tabula rasa Però l'orientamento al cliente diventa una questione interessante Perché poi è parte della cultura americana L'orientamento spasmodico alla customer service E all'attenzione al consumatore Colui che caccia i soldi Però arriviamo a conti dove si converge l'idea tra individui e essere consumatori E il profitto viene generato su quale leve? L'inclusione che non è Amazon ad aver cambiato in peggio il mondo del retail Ma è Walmart che ha iniziato la cosa Amazon ha solo esteso a livello mondiale Ecco questa guerra al ribasso Il maestro di Bezos si può considerare Sam Walton E in particolare ha le sue teorie sul flusso di cassa Di quanto sia importante il flusso di cassa rispetto all'utile Ovvero se io ho una modalità di pagamento nella quale incasso prima di spendere E questo mi consente di avere una forte ribida di cassa Io posso ottenere sempre i prezzi migliori e basare il tutto sulla fluidità Quello che oggi Amazon applica perché io metto in magazzino un prodotto Dal momento in cui lo metto in magazzino pago il mio fornitore a 60 giorni Ma io Amazon ho la capacità di vendere questa cosa in un giorno Il che vuol dire che io ho un anticipo di soldi di 60 giorni a tasso zero Anzi con guadagno E quello mi permette di reinvestire quella cifra in un contesto moltiplicatore scalabile Questo modello è esattamente quello che applica Amazon E che è stato applicato nei centri di Walmart